Questo è il mese al preziosissimo sangue di Gesù, 15 luglio, il sangue della speranza. Chiunque guarda il cuore di Gesù trafito e ne vede sgorgare il sangue prezioso, non può disperare della propria salvezza. Longino, quando lo aprì con una lanciata, senza saperlo, aprì il cuore dell'uomo alla speranza e tradizione che il primo a goderne le ricchezze sia stato proprio lui. Alcune gocce di sangue li cadero sugli occhi malati e li donarono il lume degli occhi e della fede. Da allora la croce insanguinata divenne l'ancora alla quale si aggrapano le anime dei più grandi pecatori nel momento della disperazione, certi del perdono e dell'amore di Cristo. Il grande persecutore, folgorato dalla grazia sulla via di Damasco, ci incoraggia. Seppur essendo suoi nemici siamo stati per la sua morte riconciliati con Dio, a maggior ragione saremo salvi ora, che siamo suoi amici. E tu di che temi? Non dire non mi salverò. Hai il sangue di Cristo. Ogni tua speranza è il sangue di Cristo. Non disse Gesù che si fa più festa in cielo per un pecatore pentito che per novantanove giusti? Certamente nel paradiso la schiera dei pentiti è molto più numerosa di quella degli innocenti. Anche noi, se sapremo imitarli nella penitenza, come li abbiamo seguiti nel peccato, saremo un giorno con loro. Stringiamoci alla croce ed invochiamola. Ti salutiamo, o croce santa, nostra unica speranza. Esempio Santa Caterina da Siena fu giustamente chiamata la mistica del sangue, perché il sangue prezioso di Gesù era costantemente nel suo pensiero. Le sue numerose lettere hanno iniziottute nel nome del prezioso sangue. Al suo confessore diceva Abbiate sempre il sangue di Gesù davanti agli occhi. Nei dialoghi scrive «Quel sangue è l'unico maestro. Il sangue di Gesù ci ha nuovamente creati». Con l'invocazione al prezioso sangue ottene la conversione del cavaliere perugino Nicolò e colò toldo, condannato ingiustamente alla pena capitale. Sarebbe morto disperato e con l'odio nel cuore se non fosse intervenuta Santa Caterina. L'accompagnò è la stessa sul patibolo. Li parlò del sangue di Gesù, prese il suo capo fra le mani, glielo aggiustò sotto la mannaia ed il poveretto morì esclamando «Gesù, Caterina, diciamo anche noi con lei, oh Gesù, il mio cuore diventa fuoco pensando a te. Le anime dei santi sono tante fornaci brucianti, unicamente d'amore per Gesù. E le nostre, quanta tiepidezza! Quale attaccamento alle cose terrene! Proposito Non riporò la mia fiducia nelle creature, ma solo in Dio, il quale è fedele e non ingana. Giaculatoria Agnelo immacolato, nel sangue tuo che si offre sull'altare, E riposta ogni nostra speranza.